Automat 300 Il centro di lavoro è composto di tre isole, alimentatore, svolgitore ed avvolgitore, tutte completamente automatizzate e in perfetta sincronia tra di loro, per la realizzazione di bobine e matasse di qualsiasi metraggio e dimensione. La prima isola di lavoro è, in questo caso, a caricamento laterale sinistro a circuito chiuso. All'avvicinarsi del muletto di trasporto con la bobina presa sulla flangia, un sensore a fotocellula ne rileva la presenza. Nel momento in cui la bobina viene scaricata, la rulliera motorizzata inizia il suo corso lavorativo, ricandosi verso la stazione di rilevamento quota foro e pinzature. Dopo aver rilevato i dati, tramite un'apposita fotocellula, la bobina procede verso la seconda isola di lavoro, costituita dallo svolgitore automatico. Questa macchina, memorizzati i dati relativi alla bobina in arrivo, effettua in contemporanea le operazioni di pinzatura, sollevamento e rotazione di 180 gradi, ponendo così la bobina in posizione di svolgimento. Contemporaneamente, l'operatore prende la bobina da avvolgere, ne rileva il diametro e preme il pulsante relativo alla quota corrispondente. L'avvolgitore si preimposta, in altezza e larghezza, tramite parametri di norma. Di seguito, l'operatore preme il tasto di pinzatura, completando così l'operazione di pinzatura e sollevamento. È possibile automatizzare l'inserimento delle bobine da avvolgere tramite una rulliera come nella fase di svolgimento. L'operatore ritorna allo svolgitore, che si trova già in posizione, ed inserisce l'estremità del cavo nel gruppo di misura e taglio, per poi fissarla sulla bobina di avvolgimento mediante chiodatura ad aria compressa, oppure sulla matassa, utilizzando l'apposito aggancio rapido. La terza isola di lavoro è costituita dalla macchina avvolgitrice e dalla matassatrice automatica. Le sue funzioni vengono regolate da un computer, che riceve dal sistema centrale tutti i dati relativi alle lunghezze delle sezioni di cavo da avvolgere e alle dimensioni delle bobine. Se necessario, questi dati possono anche essere impostati direttamente tramite una tastiera presente sulla macchina. Ricevuta la conferma dall'operatore, lo svolgitore entra in tesatura ed inizia l'avvolgimento. Questa operazione avviene in tre fasi, accelerazione, velocità di regime e decelerazione, confermata al raggiungimento della misura richiesta. Relativo taglio, discesa ed apertura delle pinze per il recupero della bobina. Le velocità massime consentite sono gestite automaticamente dal computer in funzione della lunghezza, del diametro dei cavi e delle dimensioni delle bobine. A questo punto, l'operatore interviene per il recupero della matassa o della bobina. Contemporaneamente, lo svolgitore provvede al riavvolgimento automatico dello spezzone di cavo. Ruota nuovamente di 180 gradi e colloca la bobina master sulla rulliera di scarico per l'espulsione. Nella fase di matassatura, l'operatore, dopo aver fissato il cavo all'apposito aggancio rapido ed inserito tutti i dati relativi alla lunghezza e allo spessore della matassa, preme il pulsante di avvio. Il matassatore procede con la chiusura automatica dei rulli orizzontali e verticali, partendo con la fase di matassatura. La macchina, dopo aver superato le fasi programmate di stratificazione ed eccellerazione, si ferma alla misura impostata. Per poi provvedere alla prima legatura. Alla seconda legatura a 120 gradi, al taglio del cavo e alla terza legatura, anch'essa a 120 gradi. Di seguito, espulsione della matasse. Le bobine e le matasse lavorate possono essere inviate direttamente in spedizione tramite linee di trasporto che prevedono eventuali stazioni di etichettatura e cellofanatura. Sul centro di lavoro Automat 300, in tutte le fasi di lavoro, l'operatore è in grado di intervenire manualmente, tramite una tastiera di servizio collocata all'interno di un'isola protetta, per modificare qualsiasi parametro secondo necessità. Il caricamento di Automat 300 avviene tramite diversi sistemi di trasporto variamente posizionati. Caricamento laterale destro o sinistro con quattro pallet a circuito chiuso, con bobine non pallettizzate. Caricamento frontale con bobine pallettizzate o caricamento robotizzato. Attualmente, il centro di lavoro opera in svolgimento e in avvolgimento con bobine di diametro minimo di 500 mm, fino ad un diametro massimo di 1.400 mm, con peso massimo di 2.000 kg. È possibile personalizzare l'impianto per la lavorazione di bobine con diametro da 2.000 a 2.600 mm, e con peso massimo di 4.000 kg. Automat 300 dispone di un polmone di magazzinaggio per un massimo di 3 bobine sulla stazione di carico, di una bobina sullo svolgitore e di 3 bobine sulla sezione di scarico. Sono disponibili anche versioni ridotte a 2 o 1 bobina. Per un perfetto avvolgimento, ovvero con il cavo costantemente nella tensione ottimale, Automat 300 dispone di due rulli di tesatura automatici, uno per cavi con diametro fino a 13 mm ed uno per cavi con diametro da 13 a 50 mm. È possibile inserire un terzo sistema di tesatura per cavi molto delicati, che sopportano tiri massimi di tesatura pari a 4-5 kg. L'impianto è dotato di tutti i sistemi di sicurezza, che impediscono l'accesso alle tre isole durante le operazioni eseguite automaticamente. Inoltre, su tutto il perimetro vengono installate delle barriere protettive. Automat 300 è il centro di lavoro di gran lunga più efficiente e veloce tra quelli oggi presenti sul mercato. A dimostrazione di ciò, citiamo alcuni dei dati più significativi sulle sue prestazioni. Con cavi di qualsiasi diametro, la sua velocità di regime è massima e di oltre 300 metri al minuto, vale a dire circa tre volte la velocità di una normale avvolgitrice. Il rifornimento e l'approntamento delle bobine per lo svolgimento avviene al ritmo di una bobina ogni 50 secondi, indipendentemente dal peso e dalle dimensioni. Nell'ipotesi di un'operazione di mattassatura e impezzature medie da 50-80 metri, la sua testata di avvolgimento e legatura automatica è in grado di fornire una confezione ogni due minuti. Nell'ipotesi di sbobinatura di lunghezza media di 300 metri, il tempo è di circa 4 minuti. Automat 300 di Nicoletti costituisce un vero e proprio sistema integrato che si rivolge ad una precisa fascia di mercato, quella dell'azienda con elevati ritmi operativi e con l'obiettivo finale di automatizzare il più possibile tutti i processi produttivi.